Allora, di che si tratta? Quello che vedete, signore, non lo so. Avrei pensato ad una munia, visto e considerato che è arrivato dal Tibet. Le mummie provengono dall'Egitto, Berger. Giustamente esatto. Vedete, fra l'altro, l'involucro è di metallo, il che mi ha fatto pensare a un sarcofago. No, Berger, in Tibet i sarcofaghi erano fatti di pietra. Dov'è il trasportatore che ha consegnato la cassa? È ripartito. Beh, è ovvio che non era diretta a noi. Chiamate il nostro spedizioniere doganale e... Mio Dio, è davvero bellissimo. È tutto argento massiccio. Nel son togli l'imballo, per favore. Cosa c'è scritto? È latino. Cacan dei potestas in terra. Il potere di Dio in terra. Testas. Sigillo dell'imperatore dell'umanità. Oh mio Dio. Temujin. Questo è il sarcofago d'argento di Temujin. Chi era Temujin? Colui che aveva conquistato quasi l'intero globo, otto secoli or sono. Ma come? Io non l'ho mai sentito nominare. Temujin era il nome di battesimo... di Gengis Khan. Chi ha spedito la cassa? E... non c'era scritto. Sull'etichetta c'era soltanto il paese d'origine. Devo fare una telefonata. Se volete, posso aiutarvi. Nelson cascasse il mondo, non deve essere aperto. No, signore. No, signore. Non, signore. Rai? Grazie a tutti. Il museo è chiuso. Segui me o morirai. Come? Non ho capito. Segui me o morirai. Questa è proprietà privata. La tua mente è debole. Fermo dove siete. Mettiti in ginocchio. Punta la pistola alla tempia. Ed ora sacrificati. Per me, sì, mio cano. Oh, mio Dio. È una cosa incredibile. Siamo stati via solo un minuto. Siamo stati via solo un minuto. Saci via solo un minuto. Grazie a tutti.